Un piano di riordino che i conservatori e i riformisti hanno demolito, sottolineando punti critici, debolezze e contraddizioni rispetto al decreto ministeriale 70 del 2015. Nel dossier presentato dai fittiani non c'è traccia del servizio di endoscopia digestiva in tutta la città di Bari, insufficienti posti di psichiatria e di terapia intensiva. Ma far vacillare la bontà di un provvedimento che presenta molti lati oscuri salta agli occhi, secondo l'opposizione, il rapporto posti letto abitanti, che risulta disparitario tra i territori. A un posto letto ogni 6.000 abitanti a Foggia corrisponde uno ogni 50.000 nelle cese. Inoltre, le strutture che serviranno per disegnare la rete del trauma, dell'ictus e dell'infarto vedono ampi territori non coperti da servizi di assistenza. Ma a generare dubbi entra in gioco anche il rapporto costi-ricavi. I fittiani si chiedono dov'è la valutazione di sostenibilità economica e finanziaria. Dunque il piano, sottolinea il capogruppo Ignazio Zullo, atteso da Roma, sarà bocciato dal ministero. Forse non in forma così evidente, ma di certo il ministero chiederà una revisione profonda, che poi, in parole più semplici, sarà una bocciatura di fatto. Dai conservatori e riformisti si passa a Forza Italia, che ha scelto di intraprendere la strada degli emendamenti a questo provvedimento, che, come ha sottolineato Caroppo, è fatto male, elaborato nelle segrete stanze di Emiliano e sfornato in zona Cesarini. Grazie. Grazie.